L'opera è così romantica. E con un uomo lo è anche di più. Vedi, io mi aspettavo di portarci i film. Avevi preparato tutto questo per un uomo che non hai mai visto. Mi è sembrata una cosa carina. Tieni. Oh, grazie. Salute, non mi sento tanto bene. Meglio che torni a casa. Cosa vuoi che venga con te? Porta, resta, diverti. Ma, ma, davvero, ti chiami? Torni su. Certo, era scortese e un po' troppo drammatico. Ma mi sentivo come se avessi appena visto il fantasma dell'opera.